Le api non fanno parte del mondo. Le api sorreggono il mondo. Erano le 19.34 del 23 novembre del 1980, quando una scossa di magnitudo 6,9 gradi della scala Richter provocò un ben 2.914 morti, più di 8.000 feriti e oltre 280.000 sfollati. L'epicentro fu tre comuni di Teora, Castelnuovo e Conza della Campania e ben 679 furono i comuni colpiti. Da allora, il 23 novembre, è un giorno scalfito nella memoria di quanti hanno vissuto quei 90 secondi del sisma dell'Irpinia. Anche a Cava dei Tirreni la scossa lasciò un segno indelebile. In tanti ricordano ancora il boato, l'illuminazione pubblica che improvvisamente viene meno e il grande spavento delle persone che fuggono all'impazzata tra le macerie in strada. Cinque furono le vittime in città. A causa del crollo di un palazzo in Via Alfieri, persero la vita quattro persone. A Santa Lucia, numerosi edifici non restero al sisma e sotto uno di questi una donna rimase uccisa. Oltre 60 furono i feriti. Anche i monumenti simbolo della città metelliana riportarono ingenti danni. La chiesa di San Francesco risultò completamente distrutta e solo nel 2009 i cavesi hanno potuto ammirarla nuovamente in tutto il suo splendore. Le lancette dello storico orologio di un duomo gravemente danneggiato per lungo tempo rimasero ferme alle 19.34. A complicare la situazione fu l'inadeguatezza della macchina dei soccorsi, incapace di fronteggiare l'emergenza. Il primo, a porre l'accento in maniera decisa sulle negligenze, fu l'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che dopo un viaggio sui luoghi della tragedia, compiuto il 25 novembre, in un accorato discorso in tv, denunciò con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi. Talvolta le tragedie, però, sono anche un monito per l'umanità, ad agire diversamente, per essere preparati alle emergenze del futuro. La consapevolezza dell'inadeguatezza dei soccorsi fu infatti lo sprone al processo che ha determinato la nascita dell'odierna protezione civile.